Mi gira la testa Cosa non si fa per dei video originali? E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video in cui vi parlerò del mio più recente acquisto Come vi avevo già annunciato nel video precedente infatti ho una nuova sedia che era l'unico elemento del mio setup ad essere rimasto invariato per troppo, troppo tempo Se vi andate a rivedere infatti il mio primo video in cui mi feci vedere in faccia o forse è meglio di no visto che assomigliavo a una scimmia sottosviluppata noterete che la sedia era sempre quella Una banalissima sedia bianca marcata Ikea con nulla togliere ad Ikea e fantastica di gomma piuma che purtroppo non posso farvi vedere perché l'ho già mandata in discarica Probabilmente mentre mi state sentendo parlare è proprio lì in mezzo ai rifiuti milanesi che sta prendendo fuoco Ma vediamo adesso la new entry con lei che l'ha sostituita E sto parlando di questa AK Racing di colorazione blu e nera sulla quale sono seduto No, non sono interista, semplicemente era l'unica disponibile su Amazon al momento dell'acquisto Sono sinceramente felice come una Pasqua di averla acquistata perché tra lavoro, editing e studio su questa sedia alla mia scrivania io ci passo più della metà della mia giornata E ecco la prova che gli youtuber non hanno una vita buffo Questo video sarà più una chiacchierata amichevole tra di noi Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di essa Ovviamente iniziando dalla comodità che ci offre do 10 elode, indubbiamente È morbida, è rigida, è dotata sia del cuscino lombare che di quello cervicale i quali sono fondamentali molto più di quanto pensassi per mantenere la schiena, il corpo e il collo rilassati Con tutto questo morbidoso non ti viene neanche voglia di chinarti adottando una postura scorretta Anche perché sul suo lato destro c'è la leva per regolarne l'inclinazione E qui cominciamo a divertirci Così come la state vedendo ora è al massimo della sua angolazione verticale Ma può andare giù, molto più giù Fino praticamente a diventare un vero e proprio letto La potete letteralmente piegare a 180 gradi La sedia Oh, non prendetemi per pazzo, ma ci ho effettivamente provato a dormire su Solo per un'oretta, è ovvio E il risultato è stato non comodissimo ma neanche tragico come previsto Visto che comunque non è stata pensata per dormirci Più che altro sono solito adottare una via di mezzo tra i 90 gradi di ora e i 180 gradi completamente distesa Quando sto editando un video o guardando un film Magari di notte quando sto montando un video e le sessioni di editing sono molto lunghe e intense Ogni tanto sento la stanchezza, voglio riposarmi E allora dico, ok, è ora della nanna Trrrrung, che mi abbasso tutto di 180 gradi Dormicchio un po' alla sid dell'era glaciale E poi, ok, si riparte più carichi, cioè oddio, carichi Meno tramortiti di prima Piccola nota, non vi spaventate quando tirate su lo schienale perché decolla a razzo Se non state attenti, sbucate il soffitto Alla base ovviamente non manca la classica leva che permette di alzarlo o abbassarla verticalmente Regolata in base al peso che preme su di essa In assenza di quest'ultimo andiamo su Se invece ci siamo seduti, la trasciniamo verso il basso Il montaggio di questa sedia, dato che sì, vi arriva completamente smantellata in una scatola di circa 30 kg Era... Non è stato difficilissimo ma neanche immediato Ho dovuto seguire dei tutorial su YouTube per riuscirci Perché la guida sul manuale dava un po' troppe cose per scontate Pensate, Blackjig Tutorial che ha bisogno di seguire dei tutorial Tisi scritto Ma, tirando le somme, sono soddisfatto dell'acquisto? Cosa mi ha fatto storcere il naso? Ve la consiglierei? Dire che sono soddisfatto dell'acquisto tecnicamente è un po' scorretto Visto che non l'ho esattamente acquistata L'ho presa grazie a dei buoni regalo di Amazon Quindi ho semplicemente rinunciato a prendere un altro prodotto per potermi prendere questa Sinceramente 300 euro sono tanti Se avessi dovuto sborsare di tasca mia i soldi per una sedia Avrei certamente cercato qualcosa di un po' più economico Dico un po' più economico e non troppo Perché non voglio assolutamente sminuire l'importanza che ha la sedia nel vostro setup quotidiano Possedere una sedia da gaming, da editing, chiamatela come volete La sostanza è che deve farvi adottare costantemente una buona postura E deve farvi sentire comodi in quello che è il vostro lavoro giornaliero Durante le vostre lunghe sessioni a fissare il nostro miglior amico che si chiama Monitor Nel mio caso ora ritengo di assumere una postura corretta Con la sedia di prima no Dunque ripeto non sottovalutate questo acquisto Piuttosto risparmiate su monitor, tastiera, sul vostro pc E investite quei 100-200 euro che vi rimangono in una buona sedia Che vi piace, che vi convince di qualità Ovviamente essendosi create le circostanze Affinché io abbia potuto prendere la top di gamma O comunque una di esse L'ho presa e sono felicissimo della resa L'unico appunto che farei è che per questi soldi c'è troppa plastica Il corpo inferiore è in metallo, grazie al cielo Se no caschiamo per terra E non ho grosse lamentele È stabile anche se è un po' troppo fluido nei movimenti Ma i braccioli sono in plasticaccia E non danno un grandissimo senso di stabilità Parti morbidi e le cuciture invece sono di ottima fattura E danno un feeling eccezionale, come già detto prima E complimenti anche per tutte le scelte di colori Che avete a disposizione ufficialmente Anche se come avete visto non sono sempre tutte disponibili Io l'avrei voluta nera e rossa O magari bianca e nera No, non sono milanista E neanche Juventino Odio il calcio Quindi ragazzi, se questo video sulla mia nuova sedia K Racing vi è piaciuto Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Se la volete acquistare o dare un'occhiata ad altre sedie della concorrenza molto molto valide Qui sotto in descrizione vi lascio il link per acquistare lei assieme a altre 3-4 scelte Io vi ricordo di seguirmi anche su tutti i miei social network I link come sempre li trovate tutti qui sotto giù in descrizione Se ora cliccherete ai lati potrete raggiungere altri miei due video E invece dovete cliccare qui al centro per iscrivervi al mio canale Mi raccomando è veramente molto importante Detto questo ragazzi vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo ad un prossimo video E noi ci rivediamo